Un saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Damiano Fedeli. In FIPILI, in direzione Firenze, ci sono due chilometri di coda per lavori tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa. Sempre in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici per mancato assorbimento della viabilità esterna. In A1, in direzione Bologna, due chilometri di coda per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Svingolo, che è chiuso per lavori fino al 31 agosto in entrata in direzione Bologna e in uscita provenendo da Roma. Sul raccordo Siena-Firenze, lavori di manutenzione ai viadotti Docciola e Falciani tra l'allacciamento A1 di Firenze Impruneta e San Casciano, possibili code. Veniamo a Firenze, via del Gelsomino è chiusa per un incidente all'altezza del Civico 43, blocco temporaneo della circolazione e code in via Senese. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!